quindi parliamo di geometria analitica dello spazio in particolare parleremo della sfera quindi equazione della sfera dello spazio x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato più z meno gamma al quadrato uguale a r quadro dove alfa, beta e gamma sono le coordinate del centro della sfera si può anche scrivere nella forma seguente l'equazione x quadro più y quadro più z quadro più ax più by più cz più d uguale a zero dove alfa, beta, gamma coordinate del centro si possono ricavare come alfa uguale a meno a mezzi beta uguale a meno b mezzi e gamma uguale a meno c mezzi e il raggio al quadrato è meno d più a quadro quarti più b quadro quarti più c quadro quarti ricordiamo che a quadro quarti corrisponde ad alfa quadro beta quadro quarti corrisponde a beta quadro c quadro quarti corrisponde a gamma quadro l'esercizio chiede di trovare la sfera avente centro di coordinate 1, 1, meno 2 e passante per p di coordinate 2, 1 chiaramente alfa, beta, gamma le conosciamo alfa uguale a 1 beta uguale a 1 e gamma uguale a meno 2 in quanto coordinate del centro il raggio sarà distanza tra due punti nello spazio tra il punto c e il punto p ricordiamo la formula della distanza a due punti radice quadrata di x a meno x b al quadrato più y con a meno y b quadro più z con a meno meno z con b quadro il crema di Pitagora applicato nello spazio e quindi si arriva all'equazione che riportiamo in basso x meno 1 quadro più y meno 1 quadro più z più 2 quadro uguale al raggio al quadrato che in questo caso è 10 qui riprendiamo quello che era stato già detto quindi il centro c di coordinate alfa beta gamma con alfa meno a mezzi beta meno b mezzi gamma meno c mezzi quindi il raggio si può anche scrivere come un mezzo per radice quadrata di a quadro più b quadro più c quadro meno 4d che è equivalente naturalmente a quello che noi già abbiamo presentato prima se andiamo un attimo indietro ecco r quadro l'abbiamo espresso in questa forma r è la radice quadrata di meno d più a quadro quarti più b quadro quarti più c quadro quarti ma possiamo portare fuori dal segno di radice il un quarto che diventa fuori da radice un mezzo ricordiamo che questa equazione l'equazione di una sfera è tale è una sfera reale se il radicando è maggiore di zero se il radicando è minore di zero abbiamo una sfera immaginaria intersezione piano-sfera il piano è secante quindi taglia la sfera sappiamo che la traccia è quella di una circonferenza e qui rappresentiamo un sistema tra una sfera e un piano chiaramente l'alunno dovrà calcolare la distanza tra il centro c e il piano e verificare se questa distanza è uguale al raggio è minore del raggio o è maggiore del raggio per capire se è tangente il piano oppure è secante oppure è esterno qui è il caso in questa slide in cui il piano è secante alla sfera quindi si determina una circonferenza come intersezione, come traccia tra il piano e la sfera e siamo interessati a determinare il raggio della circonferenza nel piano il raggio si calcola con il teorema di Pitagora se guardiamo il disegno R piccolo indicato qua in rosso R grande è il raggio della sfera quindi CC' è la distanza tra il centro della sfera e C' è il centro della circonferenza quindi è evidente l'applicazione di Pitagora e questo ci porta a trovare appunto il raggio come radice quadrata il raggio in questo caso è un cateto dell'ipotenusa al quadrato che è R grande meno la distanza CC' quadro che è l'altro cateto questo è un esercizio che viene proposto si dà una sfera e un piano si trova le coordine del centro ricordando che α, B e γ sono meno A mezzi meno B mezzi e meno C mezzi troviamo il raggio della sfera con le formule prima assegnate e poi con questa formula che modulo di AXP più YP più CZP più D fratto radice quadrata di A4 più B4 più C4 troviamo la distanza del punto C dal piano pi greco C è il centro della circonferenza quindi chiaramente A, B, C e D sono i coefficienti se torniamo indietro ecco se guardiamo il piano A uguale a 3, B uguale a 6, C uguale a 2 e D è meno 6 quindi tornando andando avanti quindi A, B, C, D sono quei numeretti che abbiamo prima indicato mentre X, P, Y, P, Z con P è il punto da cui siamo interessati la distanza tra il piano e il punto in questo caso X, P, Y, P, Z, P sono le coordine del centro della sfera sostituendo facendo i calcoli scopriamo che la distanza tra il centro e il piano è 3 settimi ed è minore del raggio quindi un piano secante quindi la traccia sarà una circonferenza e il raggio della circonferenza si calcola con questa formuletta qui raggio al quadrato meno C, C primo quadro e dove C, C primo quadro rappresenta appunto la distanza tra, come ho detto C e il piano pi greco e che è la stessa cosa e quindi al quadrato corrisponde a 9,49 qui invece rappresentiamo l'equazione parametrica di una retta che passa per il centro C ed è ortogonale al piano pi greco e perché ci interessa questa retta? perché siamo interessati a determinare le coordinate del punto C primo che altro ne che l'intersezione di questa retta che passa per C ed è ortogonale al piano pi greco quindi per fare questo si deve fare un sistema tra questa retta S e naturalmente il piano pi greco e risolvendo il sistema per sostituzione troviamo le coordinate del punto C primo che è il centro della circonferenza nel piano pi greco che ha coordinate 40, 49esimi 13, 98esimi 135, 98esimi ricordiamo che C primo appartiene al piano pi greco quindi la retta S interseca il piano nel punto C primo centro della circonferenza sul piano in questo punto ecco abbiamo detto che per trovare le coordinate di questo punto C primo è necessario fare il sistema tra l'equazione parametrica della retta S l'equazione della retta S passante per C è ortogonale al piano con il piano pi greco e otteniamo le coordinate di C primo qui invece è un altro problema di piano tangente lo vediamo nel grafico un piano pi greco tangente è una sfera in un punto la sfera ci viene assegnata nell'esercizio per trovare l'equazione del piano tangente ci viene anche assegnato il punto P0 ricordiamo che un piano equazione X più Y più C Z più D uguale a 0 ABC sono i parametri di rettori del vettore ortogonale al piano quindi è necessario trovare i parametri di rettori di un vettore ortogonale in questo caso il vettore che passa per il punto C centro della sfera è il punto P0 che è il punto di tangenza che ha componenti le vediamo qui X0 meno alfa Y0 meno beta 0 a 0 meno gamma dove alfa beta e gamma sono le coordinate del centro C mentre X0 Y0 e 0 a 0 sono le coordinate del punto P0 quindi questa differenza di ascizia e di ordinate di X Y e di quota diciamo determina appunto i parametri di rettori del vettore che passa per il punto C P0 mentre la determinazione della retta tangente alla circonferenza nel piano pi greco si determina come intersezione del piano pi greco con il piano tangente al punto P0 in cui siamo interessati a trovare l'equazione della retta tangente alla circonferenza quindi risolvendo il sistema tra due piani troviamo l'equazione della retta tangente con questa ultima slide terminiamo la video lezione e invitiamo l'alunno a consultare ulteriore materiale sullo stesso canale in riferimento alla geometria analitica dello spazio con altri video che sono stati trattati in precedenti lezioni fine della video lezione grazie a tutti